Buongiorno a tutti quanti, qualche anno fa c'è un programma di televisione che si intitolava il senso della vita, mi pare fosse sul canale 5 dove c'era il produttore che personalmente non ha molto, Bonolis, non è tra i miei favoriti, nemmeno i programmi che fa, ma questo era un programma molto particolare perché a un certo registro c'era una persona importante, una persona famosa, e facevano questa intervista e invece di fare un'intervista gli facevano vedere delle foto che lasciassero che era la persona che commentasse e parlasse di che cosa gli suscitava questa foto. Quello che voglio fare oggi è una cosa molto simile perché è vero che alcune volte le immagini parlano molto di più delle parole, ma quello che voglio fare oggi è un esperimento, è la prima volta che lo facciamo perché non so come andrà, e voglio vedere con voi una serie di fotografie e considerate che non c'è nessuna predicazione scritta, non c'è nessuna risposta esatta, non c'è nessuna risposta svalidata, io quello che faccio è vedere soltanto queste fotografie e cerchiamo di vedere che cosa ci suscita dentro, può essere un pezzetto, una riflessione, e poi alla fine di questo, siamo brevi perché ci sono più foto e vogliamo condividere più cose possibili in questa giornata, io chiederò a una persona di pregare per quelle cose che abbiamo visto e abbiamo detto. Ok, siamo pronti? Vediamo la prima cosa. Cosa vi suscita? Cosa suscita? Cosa suscita noi in marzo dei raggiunti? Che siamo fortunati. Che siamo fortunati. Perché siamo fortunati? Perché dappine sono costretti a vivere nelle condizioni. Cosa suscita? Perché i nostri figli non sono costretti a vivere nelle condizioni. C'è un bambino che sta lavorando, una sorta di schiavo, penso che sia un bambino. Mi mette tanta tristezza. Tristezza. Ok. Altro? Tenerezza, bene. Come? Tenerezza. 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 Fortuna, tenerezza e tristezza. Almeno dallo sguardo un richiamo d'aiuto. Un richiamo di aiuto. Un richiamo di aiuto. C'è aiuto. Ok. Allora. Fa perché è costretto. Come? Lo fa perché è costretto. Lo fa perché è costretto. Per cui le condizioni di vita sue lo hanno costretto a vivere in quelle condizioni. E noi siamo fortunati perché non viviamo, i nostri figli non vivono in quelle condizioni. Ok? Altra? Quindi è un ruolo di amore. Un ruolo di amore. Tu sei davvero. Qualche cosa che ti schiaccia in qualsiasi maniera. È troppo. È troppo. Chi è che vuole leggere questa amore? Non so se vuole leggere questa amore. O se c'è il tuo versetto. Non ci vuole leggere. Per quanto riguarda la sua persona. Ah, altra volta. Ok, prendiamo. Padre. Signore, tu. Vedi tutto. Perché avanti te. Niente sconde. Ogni questi bambini. Vedi. Tu. Da tutta questa difficoltà. Solo tu puoi uscire da questa difficoltà. Signore. Io lascio questo figlio. Avanti a te. Anche ci stanno tanti. Padre. Solo tu hai tirato da questa difficoltà. Da questo. Tutto difficile. Ma tu il padre. Perché tu conosci. Conosci. Con la quantità cappelli. Ci abbiamo. Ogni di noi. Signore. Tu lo sai. Padre. Come ti l'ha dato a me. Senza padre. Mi fate crescere. Arrivato qua. Padre. Con il tuo aiuto. Con il tuo potenza. E fate crescere. Noi. Come padre. E tu fai padre. Per questo bambino. Anche altri tuoi bambini. Lascia il manico. Perché. Ascolti padre. Verrà avanti. E tu trovo. E tu lo preghi. Ah signore. Che dopo questo bambino. Un po' dall'alate. E te. Rengli con il tuo spirito santo. Questo bambino. Signore. E come sono. Tu lo sai. Tirati da questa difficoltà signore. Padre. E tu fai tutto. Perché è venuto questo mondo per questo. Più di tutto c'è per te. Trovo a te padre. Trovo a te. Vive con te signore. Perché difficoltà di mondo. E passa. Con te vive l'anima. La sua vita. Scendi tu signore. Perché è venuto per questi. Non è venuto per ricchi. Non è venuto per credere a te padre. È venuto a cercare. Per chi non crede a te. Per chi non ce l'ha. E grazie padre. Tu rispondi ogni nostro preghiera. Grazie Gesù. Grazie signore. Amen. Ok. Ok. Prossima volta. Ok. Cosa ci suscita? Cosa ci muove dentro questa immagine? Qua ci abbiamo una serie di persone. Tra cui c'è anche un bambino piccolissimo. Le donne in mezzo al mare. Cosa ci muove? Disperazione e speranza. Disperazione e speranza. Ok. Vergogna. Vergogna. A me succeda tanta rabbia. Pensando che nel mondo c'è tanto benessere. E questo è il capo. E negli altro la vita. Ok. La respiro la propria vita. E questo è il capo. Certezza, sperazione, speranza, rabbia per la situazione. Altro? Credo che la foto è abbastanza vicino alle persone per vedere che sono persone. E vediamo le facce di persone come noi e non numeri, chiffre, migranti. E' quello che sentiamo. Noi li abbiamo messi in un nome collettivo, migranti. Non sono migranti, sono persone. Non so se vi ricordate che noi abbiamo avuto qualche tempo fa una ragazza che è stata proprio in un centro di accoglienza all'Ampedusa e quello che diceva era non chiamate i migranti, non chiamate i migranti, non sono migranti, sono persone che si stanno spostando per motivi economici, di guerre, di persecuzioni. Per cui non chiamate i migranti, sono uomini e sono romi e sono bambini. Chi è che vuole pregare per questa fotografia? Non c'è un motivo di vivere in un mondo oggi in cui i bambini sono costretti a lavorare e a andare a scuola. C'è una giustificazione, padre, che le persone devono lasciare il proprio paese perché hanno bisogno di lavoro. E padre, sappiamo che vivere in un mondo di questa abominazione non è giusto. Quindi, padre, preghiamo che tu possa far assorgere la tua chiesa, che tu ci riempierai con la tua rabbia di giustizia, che noi, la tua chiesa, il tuo popolo santo, farà tutto quello di cui siamo in grado di fare per rendere più giusto questo mondo. Aiutici a sfidare chi è razzista, chi usa la discriminazione. Aiutici a essere il tuo portavoce di come tu vuoi che siamo fatti le cose su questa afferma. Quindi, sia che noi passiamo essere le persone che tu vuoi, la tua chiesa, e che le persone che hanno bisogno di vederti nella loro vita, possano vederti. Amén. Próximo. Non so se si vede bene, è a un bambino che sta dormendo su un materasso in una montagna di maledizia. Sì, ciao, sono il primo interno, ci sono il primo interno. Ok. Quali sono le reazioni che abbiamo di vederti una volta a una immagine del genere? Sì, sconforte. Altro? Se poi fosse lì, come la giustizia di questa persona? Non si può pensare che il mondo sia questo, questo che vediamo, è inumano. È difficile pensare che questo è successo, non si può pensare. Solitudine. 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 Ok. Io vedo anche un sacco di monedizia. Chi l'ha provocata la mia immondizia? Sì, l'ha provocata, la mia immondizia. In questa fotografia, personalmente, ci vedo anche una trattare il creato di cui dovremmo essere i controllori, il Signore nel giardiniero di Eden ci aveva fatto giardinieri della sua creazione e noi l'abbiamo ridotta in questa maniera. L'immondizia che ci conta questo cammino è fuori del mondo, è dentro. E chiaramente quella è il mondo in sé che abbiamo creata a noi. Chi vuole pregare questa fotografia? Signore, noi non siamo debiti di stare in questo mondo, siamo tutti peccatori, anche da minima parte, sbagliamo ogni giorno. I nostri gesti, le nostre abitudini, sbagliamo anche a fare la spazzatura, a riciclare le cose che l'uomo può distruggere dall'ambiente. Invece noi impugniamo giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Ti prego di aiutarci, aiutarci a noi per primi a aiutare questo mondo a stare meglio, a stare meglio nella salute nostra e nella salute delle persone che vengono dopo noi, ma soprattutto ti prego per le situazioni che vivono questi ragazzi, queste persone che sono due figli, ma purtroppo sono costretti a stare nel nulla. Si divertono con nulla e sono costretti a stare lì, abbandonati da tutti e solo con quel valore riguardo, ma non so fare nulla. Ti prego il giorno che tu verrai di fare la tua giustizia e di far male alle persone che fanno male in questa terra. Voglio essere lì a prendervi la giustizia che verrà in questo mondo. Amen. Prossima. Questa è una delle chiese di Sri Lanka dove è esplosa una bomba, non si è esplosa, con il prosnuomo, con una bomba dentro della chiesa dove è stato filmato poco prima il ragazzo che è entrato dentro con lo zainetto, che stava parlando con i bambini che stavano fuori da questa chiesa, questa è una chiesa cattolica. Sono state fatte saltarinarie, mi pare, cinque chiese cattoliche e due chiese evangeliche, per cui basta che sono cristiani e li facciamo saltarinarie, non è una questione di denominazione. Cosa vi suscita questa problematica? Cosa ci suscita? Non so, non so, non so, non so, non so. Come? Rabbia. Rabbia. Ok, di nuovo. A me suscita pensando che quelle persone rischiano la vita andando qui, quindi lo fanno, comunque lo fanno. Noi andiamo qua la domenica e la trasmetto. Un posto contro Gironca, andare in chiesa la domenica, vorresti non tornare. Ma ci vanno cesso. Quindi, quando qualche volta non ci abbiamo voglia di andare in chiesa, perché ci abbiamo una vita calificata, perché siamo stati, pensiamo che abbiamo il privilegio di andare in chiesa. Perché persone, queste sono persone che vengono pure da distante, vengono a piedi. Quando siamo andati in Zimbabwe, c'erano persone che arrivavano facendo quattro ore di cammino per essere in chiesa. E poi chiaramente rimanevano lì perché dopo quattro ore che fai gli fai andare via, almeno gli fai stare lì, gli dai a mangiare e tutto il resto. E poi si fanno altre quattro ore nella savana per andare a casa. La chiesa non è una cosa scontata in molte parti del mondo. Noi lo crediamo come scontato. Ma non è così. Chi vuole pregare per questa speranza? Signore, noi a volte ci lamentiamo del subietro, Signore. E facciamo di tutto un po' prego, anche quando il problema non esiste. Signore, io lo so che Tu guardi i cuori, conosci i cuori in profondità. Ed è per questo, Padre, che io ti chiedo di vegliare su queste persone, Signore, che hanno tanto bisogno. Ma di vegliare anche sulla nostra chiesa, Padre. Perché anche la nostra chiesa, anche il vento, il paese e l'impero, Signore, siamo sempre un pericolo, Padre. Siamo un pericolo di noi stessi, Padre. Perché ci facciamo prendere dal nostro libro, dal nostro cuore da fare, Signore. E ti mettiamo sempre il secondo, il terzo, il quarto posto, Padre. Ed io mi sono chiesto più forte, Signore, quanto tempo dedichiamo a Te durante quel giorno, durante la settimana. Ed è per questo, Padre, che io ti imploro, Signore, di mettere nei cuori dei miei fratelli, Padre, dei Tuoi figli, Signore, del mondo cristiano, Padre. Di mettere prima, come prima cosa della verità, Signore, la Tua parola, Signore, del Tuo essere, Padre. Io ti prego, Padre, vediamo, secondo le persone che che la mattina si vengono, Signore, per mettersi tutto, tutte le chiese davanti a Te, Padre. E io ti prego, per tutte le chiese del mondo, Signore, abiti cura di tutte le chiese, della Tua chiesa, Padre, del Tuo santo comitato di Cristo. Amo. Questo dovremmo conoscere. Una foto aerea fatta con un drone di Monte Fiascone. Cosa ci suscita questa fotografia? Bellezza. Bellezza. Cosa ci sono? Cosa ci sono? Cinta carina. Potrei aver messo anche Porano, o Cintella, o Marta, la posta dove stiamo, chiaramente per brevità. Ho scelto questa perché ce l'ho su un concetto. Sì, sì. Antico Potere. Antico Potere, sì. Ok, per cui qualche cosa che torni da qua. Ci vedo pure una piccola luce. Ecco, tu ci vedi una piccola luce, sì. Ok. Per cui, bellezza, potere antico, per cui che è un primo, eh. Luce. Altro? Chiesa sul monte. Com'è? Una chiesa sul monte. Una città sul monte. Una città sul monte. Io credo che siamo molto fortunati a vivere in questo paese. Io invece te ci credo. E' abbastanza caldo. Quindi, dobbiamo ringraziarvi ogni giorno. Se ci vogliamo, ci alziamo, andiamo e parliamo. Diciamo Monte Fiascone, come altri paesi, che potrebbe essere una foto qualsiasi, no? Parlando con le persone, girando, negozi, uffici, di tutto il più giro, ci vedo malinconia. Malinconia. Ritorniamo all'immagine della luce che cerca queste persone, vero? Sì. La città apposta, solamente. Chi vuole pregarvi questa fotografia? Io. Signore, tu mi dai l'altra occasione al giorno. Mi dà un milione di parlare di te e lo sento nel cuore che le persone mi vedono. Dici, tu sei sempre del nego, come fai? Non te frega niente del mondo. No, non è così. E ti ringrazio tanto, ti ringrazio tanto. Ma, infatti, le parole che io uso non sono parole che vanno al vento, ma che colpiscono le persone che possono capire. Sì, perché sono contento e viviamo in un posto benedetto, che stiamo bene tutti. Quindi abbiamo tutto, abbiamo tutto il nostro comfort, abbiamo queste zone, ma ci manca e ci manca tanto che siamo qui perché tu hai voluto che stiamo in questi posti. Abbiamo uno scopo che stiamo in questi posti e li dobbiamo sfruttare fino alla fine, non è che siamo qui per caso. Ti prego per ogni paese, qui intorno al lago di Porzena, di fargli capire qual è il vero senso della vita. E questo posto benedetto, bellissimo, tu ci hai messo di sfruttarlo e di innalzare il tuo nome. Stato ospedale, non c'erano le mucche fatte con lo sfatto. Cosa ci suscita questa? Le mani di due persone? Le mani di due persone che si vogliono bene. Amore. Ok, l'amore. Amore. Cazzo, l'altro. Cazzo, l'altro. Poi, altro, poi. L'altro. Io sto pensando il significato a questo domani, di chiedere malosina, vita, o l'ingraziamento, non lo so. Ok. Tante cose. Conforto. 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 Un amore legato. Com'è? C'ha un amore legato. Un amore legato. Ok. Questa è la foto di due persone che hanno vissuto la mano della malata, vedete che c'ha l'unghia colorata, e è la moglie, che hanno vissuto 75 anni. Sì, sì. Sì, sì. Lei c'ha vissuto di torno ai 100 anni. Lui qualche cosina di più. E sono vissuti 75 anni a Sì. Per cui sono vissuto di torno ai 100 anni. Sono vissuto di torno ai 100 anni. Sono sposati. Sono vissuto di torno ai 100 anni. Sono sposati di torno a 20 anni. E quello che vedo qua è una grande gioia che il mondo sta piano piano cancellando. perché quando sono nati in questa coppia il fatto di avere un... di cercare un compagno nell'altra e in un'altra persona, di viverci insieme sotto... tra l'altro queste erano le mani di due persone credenti. Sposati in chiesa. Unico corpo. Un corpo solo fino alla fine. Di divorzio non si ne parla. Come abbiamo sentito invece che succede spesso. E questa è una cosa che piano piano è andata scemando negli anni. Le persone non fanno più nemmeno la fatica e si negano il fatto di arrivare così. Perché davanti al primo staglio, anche al secondo o al terzo, buttano dalla spugna. E non avranno mai la gioia di stare a fianco alla propria confaglia quasi centenaria dopo esserci stato insieme 65 anni. Chi ha il cuore pregare di questo? Sì, sono un vostro pregare. Scusi. Signore, ti ringrazio per questa foto che mi ha mostrato stamattina perché mi suscita l'amore, l'amore comunale. è l'amore che io ho provato per il fatto da noi. Quell'amore che io avrei voluto per il resto dei miei cari. Ma io vedo che è tanto difficile da vedere. Ma anche se mi guardo attorno, Signore, vedo tanta, tanta difficoltà in tutte le altre corpie. Signore, ti prego, tu che hai fatto, che hai creato la Santa Famiglia, ti prego di restituire, di far capire alle persone che quando trovano un compagno è per la vita e quando si sposano è nel tuo nome e quelle promesse che fanno da noi, tu guardare, sono promesse da noi, ma soprattutto cambia il cuore delle persone. Spero che ci sia un riavvicinamento al tempo e perché tutte le famiglie possano essere unite. Perché così anche i figli possano crescere con questo valido e esatto principio. Te lo chiedo a tutti. Vediamo l'ultima foto. Questo è il castelluccio di noccia. È la fioritura delle lenticchie. Cosa ci suscita questa gioia? Gioia. Meraviglia. Meraviglia. Gioia. Pace. Come? Pace. 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 Pensando al Signore che ha creato tutti questi colori, magari io, la meraviglia della creazione. Non è a caso. Il caso l'avrebbe fatto tutto dello stesso colore. Perché il caso tende ad uniformare. Noi abbiamo un Dio a cui piacciono i colori. Posso dirvi che cosa suscita a me personalmente questa fotografica? Da questa parte, vedete, qui c'è questi campi, se voi prendeste questa strada, quella che vedete quell'altra mezza. Qua su in alto, qui in pratica, sopra una frazione di castelluccio di noccia, c'era la casa di un mio amico fraterno, di cui già ho detto più di una volta Paolo, che ha dato una distrutta nel terremoto. E nel frattempo, purtroppo, un mio amico è morto di tumore, questo asano. C'è il mio amico da quante volte una ragazza di luciugia, cinque, 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 cinque sei anni abbiamo. E noi abbiamo sempre posposto, sì, prima o poi andiamo, prima o poi siamo andati. A questo punto non c'è più la casa, non c'è più Paolo. I campi ci sono ancora. Ma il motivo dell'andare è troppo tardi. Ma quello che mi suscita questa fotografia è le cose cognite, subito. Non aspettare. Perché poi posso non esserci più. da un lato. E poi, vedete, l'altra cosa che mi suscita è che la vita può essere dolorosa, ma la gioia della creazione nessuno la può togliere. Queste immagini Paolo l'ha vista giorno dopo giorno. E quella è una cosa che nessuno gli può più levare. Noi dobbiamo abituarci a vedere la gioia della creazione ogni giorno. Finché ci siamo. Chi è che vuole pregare per questo ultimo lavoro? Prego. 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 e fa vedere la tua luce protegge il tuo Signore sei creato, sei bene levi tutti e tanti maligni di questo mondo chi vuole distruggere questo paese sei il Padre tu levami perché sei il vincitore solo tu vincitore non c'è nessuno vincitore aiuta il tuo Signore Gesù aiuti perdoni perdoni anche ogni di noi per non distruggere per non male il paese anche buttare qualche mutizza in giro controlli tu Signore controlli tutto quello di gente che sta in giro in questo paese in tutto il mondo Madre tua pace e tuo amore per ogni di voi amati e volere bene e volere bene anche molto renditi con tuo Spirito Santo se ci sei vivi con noi perché ci possiamo fare bene e così dei tutti questi attanti ti chiedo controlli in nome di Gesù Cristo allora queste fotografiche noi le abbiamo viste chissà quante volte probabilmente non queste ma si sentono simili qualcuno forse avrà pensato queste cose che sono uscite fuori ma spesso passano nei nostri televisori nei nostri smartphone nei nostri tablet prendiamo e li scordiamo facciamo scroll perché ci sono venute fuori tutte queste cose tramite queste fotografie semplicemente se ne capiamo rallentato volusamente abbiamo rallentato il passo e ci siamo fermati a vedere e diciamo che facendo questo processo noi cominciamo a vedere il mondo non con i nostri occhi mortati ma con gli occhi di quelli che il mondo l'ha creato perché sicuramente Gesù quando guarda le immagini della Chiesa che è saltata in area di persone che andavano a loro è sicuramente ha sicuramente compassione ha sicuramente voglia di aiutare e ha sicuramente gioia nel sapere che persone rischiano anche il suo nome alla stessa maniera Dio sicuramente è arrabbiato quando vede l'immondizia con il bambino che è che è però vedete che per poter vedere le cose come le vede Dio come le vede Gesù dobbiamo rallentare noi viaggiamo la nostra vita a troppo a 4k siamo come una televisione di pernima e rapida un tempo c'erano le televisioni 720p sembravano grandi cose perché adesso che sono quattro volte più veloci non ci sembra non ci accontentiamo nemmeno di questo perché vogliamo sempre che le cose siano sempre più veloci abbiamo il fast food il mac drive non scendi manco dalla macchina per prendere il panino allora dobbiamo rallentare qual è il titolo della predicazione che non è una predicazione è il senso della vita qual è il vero senso della vita per un credente il vero senso della vita è rallentare le cose e quando io rallento e vedo le cose con gli occhi del Signore che cosa succede? che non posso non pregarmi dai la prossima slide la santa piazza per la prossima Paolo dice così in prima testa lunicesi siate sempre giocidosi e perseverate nella richiesta e in Colossesi 4 dice perseverate nella priiera regliando con il suo rendimento di grazia è quello che abbiamo fatto oggi abbiamo perseverato nella priiera abbiamo reso grazia Paolo ci dice se vuoi se vuoi trovare un senso nella vita devi rallentare e pagare perché il senso della vita del credente è nella priiera un credente senza la priiera non trova il senso della propria vita noi abbiamo fatti 40 giorni per la per la priiera per 40 giorni ma la sfida non finisce con 40 giorni la sfida continua ogni giorno perché le fotografie che abbiamo visto ci sono ogni giorno i bambini che vengono usati e schianizzati ancora ci sono ma anche la bellezza dei gradi di Castigluccio di Norcia ci sono ogni giorno magari non fioriscono tutti i giorni ma tra l'anno fioriscono alla stessa maniera ci sono tutti i giorni persone che muoiono durante le traversate di quello che noi chiamiamo immigrati ma alla stessa maniera ci sono tutti i giorni persone che rischiano il no la propria vita per testimoniare di Cristo allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo continuare a pregare perché sapete spesso anzi sempre noi siamo un punto più vicino a Cristo che i nostri amici le persone che ci vedono sono vicini a Cristo quanto noi siamo vicini a Cristo perché Cristo sta qua noi siamo testimoni di Cristo e la persona che sta a fianco nostro è vicina a Cristo tramite noi ma se noi aspettiamo di pregare non sarà mai vicina a Cristo allora che cosa dobbiamo fare mi dai la prossima mi faceva pensavo proprio a questo quando quando Abba diceva la città sul monte Monte Fiascone è un monte noi dobbiamo risplendere come chiesa noi come credente dobbiamo risplendere dobbiamo risplendere come dice qui Matteo 15 5 Gesù così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché venitano le vostre buone e glorifichi il Padre nostro che è nel cielo se ami le persone se ami la tua chiesa se ami la tua città se ami tuoi amici tu devi risplendere e non puoi fare soltanto se quotidianamente ti metti in preghiera la tua dobbiamo continuare a pregare perché? perché ci sono chiese che continuano a essere perseguitate e lo saranno fino a che esisteranno noi che attualmente non siamo perseguitati siamo magari messi scomodi qui in Italia perché non siamo molto simpatici a molti ma noi possiamo farlo vi dai la prossima perché? perché è scritto che verremo perseguitati Giovanni Giovanni 16 1 Gesù dice così vi ho detto queste cose perché ciò che vi capiterà non turbi la vostra sarebbe cacciati dalle sinagogie anzi si è avvicinato il momento in cui quelli che vi uccideranno si traranno di offrire un servizio a Dio la persona che è entrata nella chiesa in Sri Lanka pensava di offrire un servizio a Dio uccidendo persone che erano di una fede differente Paolo sapeva che la sua possibilità di vivere era in funzione delle preghiere ancora una cosa ti prego di prepararmi un alloggio anche per me perché spero che Dio risponderà alle vostre preghiere e mi lascerà tornare a lui vedete le preghiere di chi è in pace servono per coloro che stanno in guerra noi che abbiamo la possibilità e la mente libera dobbiamo pregare queste persone ma tu mi dici dove è come Marco come posso fare questo come posso rallentare la mia giornata rallentare la velocità del mio pensiero della prossima c'è un sistema solo e c'è un aiuto che è disponibile a qualsiasi ora del giorno della notte atti 1 versetto 8 ma quando lo spirito santo sarà disceso di voi riceverete una potenza tale che parlerete di me in tutta Gerusalemme in Giudea in Samaria e nelle parti più remote della terra questo significa rallentare questo significa ricevere lo spirito santo per poter essere testimoni per essere la città quello che voglio suscitare in voi è di continuare a pregare ma soprattutto rallentando le vostre vite e cercando di vedere il mondo e quello che accade che sia vicino nella vostra città che sia lontano tramite la televisione o tramite lo smartphone e il tablet riflettete quando guardate le cose non ci passate sopra perché voi siete chiamati a essere una città sul monte una luce una fiaccola che illumina la stanza e la potenza la potete attingere soltanto tramite lo spirito santo fermiamoci a pregare signore grazie che tu ci dai degli occhi con cui noi possiamo vedere il mondo come tu lo vedi che tu ci dai la capacità di penetrare quelle cose come tu le mi disse noi soltanto chiediamo lo spirito santo il nostro aiuto se tu che mi hai ascoltato oggi sei stato colpito sei stata colpita da qualcosa che è stata detta oggi e da tutte le preghiere delle persone che sono state qua dentro prega queste cose siano a me del tuo cuore signore io voglio rallentare il mio passo voglio abituarmi a vedere il mondo con i tuoi occhi voglio abituarmi a pregare costantemente a fare della mia vita una vita di preghiera per qualsiasi cosa io veda senta o percepisca spirito santo aiutami a aprire gli occhi spirituali aiutami a essere una vita ad esercitare una vita in preghiera tutte queste cose le chiedo nel tuo santo nome signore Gesù grazie